Zip News Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News Buon pomeriggio dalla redazione sportiva in studio Cristian Panzanaro Centrocampo, casting al Via Iulis a San Siro con una coppia inedita per la prima volta in questa stagione non ci saranno Ricci o Lukic dal primo minuto non era mai successo Linnetti candidato al primo minuto ballottaggio per l'altra maglia casting aperti anche perché mai come stavolta Iulis sarà chiamato ad un grande sforzo per inventarsi un centrocampo tutto nuovo inedito sicuramente anche perché dall'inizio delle stagioni ad oggi almeno Ricci e Lukic sono sempre stati schierati nelle gare ufficiali tra campionato e Coppa Italia Abodi e le parole di Santoriello sulla Juventus in opportunità evidente le dichiarazioni del ministro per lo sport e i giovani il principio di responsabilità vale sempre va dichiarato il ministro dello sport a margine di un evento a Roma al Cinema Troisi riferendosi sulle parole pronunciate dal PM Ciro Santoriello uno dei magistrati della procura di Torino che ha indagato sulla Juve che nel 2019 si dichiarò in un convegno pubblico anti-juventino e passiamo allo sci ci sono pagine di sport che restano nella storia l'oro di Marta Bassino è una di queste una prima assoluta nella sua carriera ma lo è anche per lo sci piemontese nessuna prima di lei aveva raggiunto l'oro ai mondiali non super gigante è successo a Maribel in Francia una gara quasi perfetta la piuma d'acciaio lenta in partenza ma straordinaria nel tratto lei più congeniale nel tratto misto che ha esaltato il suo spirito di gigantisca tanto da recuperare 7 decim all'austriaca Cornelia Houtter chiudiamo con il volley chi riconquista la semifinale al pala Gianni Astri reale mutua supera la Schliedrecht Sport per 3 set a 1 ottavo successo in otto gare in Europa ora il confronto con le tedesche di Schull è tutto grazie per l'attenzione Rosario Perez in regia zipnews.it le notizie nel modo più veloce zipnews